Allora Sofia raccontaci un po' il tuo percorso calcistico, quando hai iniziato e come sei arrivata a Riccione. Io gioco da Riccione da tre anni, ho iniziato calcio nove anni fa e ho giocato per cinque anni anche con i maschi nel Real Misano. Ecco io so che una tua specialità sono i calci di punizione, proprio domenica scorsa hai tra l'altro anche segnato. Sì, domenica scorsa è stata un po' di fortuna perché il portiere non ha fatto bene il suo compito, però l'anno scorso ci siamo andati a meglio e ho fatto sette gol su punizione, quindi è stata una soddisfazione per me. Senti invece ti chiedo anche due parole sul campionato, qual è la squadra favorita alla vittoria? Beh sinceramente non lo so perché sono salite alcune squadre quindi non so sinceramente quale sia la favorita. Comunque non c'è una squadra materasso in questo campionato perché siamo tutte quante attaccate e ogni partita è una battaglia. E a Riccione dove puoi arrivare? A Riccione puoi arrivare in alto. Andrea Tentoni, un personaggio del mondo del calcio che non ha bisogno di presentazioni, allora quando hai iniziato a allenare le ragazze del Riccione? Beh questo è il secondo anno, il primo anno, lo scorso è andato tutto sommato abbastanza bene, avendo un gruppo molto molto giovane siamo riusciti a fare un ottimo campionato, quest'anno siamo ripartiti con l'intento di cercare di migliorarci e per adesso le cose stanno andando abbastanza bene, penso che questo gruppo sia un gruppo forte, dall'anno scorso ho fatto dei grossi miglioramenti quindi io sono molto contento, rimaniamo sempre la squadra più giovane del campionato ma questo non vuol dire che siamo più deboli delle altre, abbiamo delle ragazze secondo me di grande prospettiva quindi si stanno mettendo le condizioni di migliorare ogni allenamento quindi io penso che il mio lavoro sia anche questo. Tu hai allenato anche squadre maschili, qual è la principale differenza nel gestire lo spogliatoio, nel gestire la squadra perché abbiamo visto hai una rosa piuttosto numerosa? Sì, infatti no, siamo io e la Riana che ce le siamo in due e chiaramente ci diamo una mano vicenda, la rosa è molto ampia ma sono tutte ragazze che si mettono a piena disposizione, lavorano senza risparmiarsi, forse questa è la cosa che differenzia più dalla donna al maschio, il maschio a volte diciamo che è un po' più indolente, ha meno voglia di lavorare, invece le ragazze gli dice di fare 100 corsi e ne fanno 100, senza problemi, quindi questa è una dotte molto importante. Io credo che nel femminile c'è tanta voglia di migliorarsi, di imparare, di ascoltare quello che in alcuni maschi non c'è. Dal punto di vista tattico invece, le tue ragazze come giocano? Noi abbiamo cambiato diversi moduli di gioco, non abbiamo un modulo particolare, io credo di adattare il ruolo alle caratteristiche delle mie giocatrici, quindi quando ho in campo so di mettere in campo alcune giocatrici che possono rendere al massimo in alcuni sistemi di gioco e faccio giocare quello. Quindi io non sono legato a un sistema di gioco e metto in campo solo quello. Penso che la bravura o il merito di un allenatore è riuscire a mettere le giocatrici in condizione di rendere al meglio nella propria posizione. Io cerco di fare questo, a volte va bene, a volte va meno bene. Infatti uno dei problemi del calcio femminile, della gestione della squadra e quella anche della grande differenza di età che spesso si ha tra le giocatrici in campo? Sì, noi partiamo dalle quattordicenne, arriviamo fino alle quarantenni, quindi spaziamo per tanto sotto questo aspetto qua. Io dico che quelle anziane, almeno il gruppo che ho io, sono state veramente brave, non so se questo capita anche in altre società, però sono state brave perché fanno sentire le ragazze, questi giovani, nel gruppo come loro, quindi sono state bravissime nel metterle in condizione di far bene. Claudio, allora che effetto fa essere allenata da un grande personaggio del calcio italiano, quale Andrea Tentoni? Noi siamo contentissime, sono due anni che abbiamo sposato la causa del mister e il mister, di essere allenata da lui. Sì, questo campionato di Serie C molto tosto, con un esperto così possiamo solo che essere contenti, insomma. Ma parlavamo delle rivalità con le squadre del vostro girone, cioè una rivalità sentita con il San Marino? No, beh, diciamo che essendo squadre che tutte abbastanza vicine a livello chilometrico, può essere il San Marino come può essere il Virtus Bellaria, è inevitabile definire i derby storici, come ad esempio domenica abbiamo il San Marino qui in casa, quindi sì, sono quelle partite dove conterà molto la testa e più che poi il vero gioco del calcio. L'obiettivo finale per questo campionato? Mantenere il gruppo solido come abbiamo fatto in questi due anni e sicuramente fare meglio dell'anno scorso, l'anno scorso siamo arrivati in metà classifica e quest'anno ci piacerebbe rientrare nelle prime cinque.